Salve a tutti, buongiorno e bentornati nuovamente su Cannotv. Oggi torniamo a parlare di cronaca nera perché ci sono vicende destinate a rimanere nel tempo, forse perché più emblematiche e rappresentative di un determinato contesto storico e sociale. Vi sono poi altre vicende, probabilmente più forti delle prime, che per qualche strana motivazione sono totalmente rimosse dall'opinione pubblica. In pochi sanno, per esempio, che i crimini di Jack lo Squartatore, il più celebre assassino londinese rimasto nell'ombra, colui che terrorizzò il quartiere di Whitechapel sul finire dell'Ottocento, furono ripetuti qualche anno dopo, in circostanze ancora più atroci. Per raccontare questa storia dobbiamo se tornare indietro nel tempo, collocandoci però agli anni 90 dell'Ottocento e spostandoci dall'Inghilterra, dalla Londra, di Jack lo Squartatore, alle campagne francesi dell'epoca, a quelle stradine spesso sterrate che collegavano i piccoli centri urbani che sorgevano allora. Ecco, su queste stradine era, cosa nota in quegli anni, imbattersi in un vagabondo dall'aspetto repellente, claudicante, vestito di stracci, con una vistosa cicatrice che ne aveva irrimediabilmente compromesso la fisionomia del volto, partorita forse da un tentativo di suicidio, da un maldestro tentativo di suicidio utilizzando una pistola. Quell'uomo si chiamava Joseph Vacher, Joseph Vacher, per i cui crimini fu soprannominato lo Squartatore francese. Qualcuno arrivò addirittura ad ipotizzare che lui stesso fosse l'autore degli ormai leggendari delitti attribuiti a Jack lo Squartatore e che in qualche modo si fosse spostato dall'Inghilterra alla Francia. Ma la storia di Joseph Vacher è anche la storia di un escalation di violenza fine a se stessa, perché nessuno è mai riuscito a capire che cosa spinse quell'uomo a commettere quelle tali atrocità. Joseph Vacher nacque nel 1869 in Francia, figlio di una famiglia assai indigente, e tentò di migliorare il suo status sociale arruolandosi nell'esercito, ma al termine del servizio militare si ritrovò ancora più solo, perché nel frattempo i genitori erano morti, e completamente senza soldi. Iniziò così la sua vita di vagabondaggio. Lui era veramente capace di percorrere delle enormi distanze a piedi, tagliando anche per campi, per prati, per boschi. Viveva all'aria aperta, dormiva all'aria aperta e non aveva nessun tipo di rapporto con un altro essere umano. Non aveva rapporti con donne, non aveva amici, insomma era quasi un animale. In quegli anni, tra il 1895 e il 1898, nelle campagne francesi iniziarono a verificarsi una serie atroci di delitti che ricordavano effettivamente quelli commessi qualche anno prima a Londra da Jack lo squartatore. Molte persone, infatti, fra cui pastori, donne, uomini di tutta l'età e purtroppo anche delle ragazzine molto giovani, poco più che bambine, venivano ritrovate morte con il ventre completamente squarciato e con l'interiore sparse attorno al cadavere. Erano degli spettacoli atroci e la polizia brancolava nel buio, non sapeva chi fosse il responsabile di questi fatti, perché queste persone scomparivano sempre in stradine poco battute quando erano sole, quindi non c'erano testimoni. E fra i sospettati non c'era nessun Joseph Vachet, non c'era nessun vagabondo, perché lui nel frattempo si spostava anche abbastanza velocemente, tagliando per i prati, per i campi, per i boschi, per cui quando poi la polizia indagava nel circuito, diciamo, di vita di queste persone, di queste vittime, lo squartatore era già lontano. Particolare e interessante quanto atroce era che soltanto alcuni di questi corpi presentavano delle ferite da accoltellamento. Negli altri casi sembrava che il killer le avesse aggredite e anche di conseguenza squarciate a mani nude. Questo dovrebbe essere indicativo della violenza e della ferocia con la quale agiva quest'uomo. Ma tutti quanti i killer, si sa, commettono degli errori. E così l'ultima persona che Joseph Vachet provò ad aggredire, gli riuscì a sfuggire. Si trattava di una giovane ragazzina che stava percorrendo, insomma, un tratto di strada poco battuta e che si era vista a quest'uomo, dall'aspetto tanto repellente, saltarli addosso. Riuscì in qualche modo a divincolarsi, corse alla più vicina stazione di polizia e raccontò tutto quanto agli inquirenti che si misero in azione alla ricerca di quest'uomo. Qualche giorno più tardi Joseph Vachet fu fermato mentre Claudicante stava viaggiando, insomma, stava conducendo su una stradina sterrata, poco battuta, immersa nella campagna. Fu portato in questura e interrogato. Nel frattempo la notizia aveva, insomma, si era sparsa in Francia. Le gesta dello squartatore francese venivano citate sui giornali con tanto di didascalie e di vignette didascaliche, appunto. Ma Joseph Vachet, al comando di polizia, negò tutto. Lui era innocente. Allora gli inquirenti provarono una tattica interessante. Iniziarono a punzecchiarlo, diciamo, nell'orgoglio. Iniziarono a dirgli che uno come lui, un vagabondo dall'intelligenza modesta, non poteva in alcun modo aver commesso dei delitti così atroci e non poteva in alcun modo essere sfuggito per così tanto tempo alle autorità. Joseph Vachet, ferito nell'orgoglio, ritrattò e confessò tutto quanto, fornendo anche dei dettagli piuttosto interessanti che aiutarono gli inquirenti a scoprire altri cadaveri che nel frattempo non erano ancora stati rinvenuti. Joseph Vachet, scusate, fu ghigliottinato nel 1898. La sua vita si interruppe a 29 anni. Si stima che abbia ucciso tra le 11 e le 13 persone, anche se effettivamente furono più di 30 i cadaveri ritrovati squarciati, insomma, in quelle campagne, in quegli anni, uccisi grossomodo nella stessa maniera. Questa era la storia dello squartatore francese, di cui nessuno appunto è riuscito a capire che cosa avesse instillato tanto odio, tanta violenza e tanta ferocia nella mente di quell'uomo. L'unica spiegazione che Joseph Vachet dette agli inquirenti, quando gli chiesero per quale motivo avesse commesso quei delitti, Joseph Vachet raccontò di essere stato morso da un cane che gli avrebbe instillato la rabbia. Leggenda o realtà? Non lo sapremo mai. Questa è una storia dimenticata, forse giustamente nel tempo, alla quale non si ispira niente e nessuno, perché non c'è nessun film, nessun fumetto e nessun libro che abbia tratto spunto dalle gesta di Joseph Vachet. Io spero che abbiate gradito questa storia, assai inquietante, insomma piuttosto macabra. Vi ringrazio per l'ascolto, se vi sentite di lasciare qualche commento fate pure, se conoscevate questa storia, come la giudicate in rapporto alle quasi simili, insomma, vicende accadute nella Londra di Jack lo squartatore qualche anno prima. Per il resto vi auguro un buon proseguimento di giornata e ci rivediamo a voi piacendo al prossimo video. Ciao a tutti!